piccola consultazione prima di cominciare io e angelo abbiamo concordato che una river mix cavedano e una peschiera sicuramente è il mix perfetto di queste acque è un ottimo connubio insomma ecco utilizzando due chili di peschiera insieme a un chilo di river cavedano questo perché le due granometrie sono leggermente differenti la cavedano un pochino più grossa la peschiera un pochino più fine cariche moltissime di crisaide e formaggio che è la cosa che cavedano scabri e carpe amano terribilmente di conseguenza noi cerchiamo di fare un composto nocciola chiaro poca acqua dentro in maniera che sia che noi andiamo a comprare nei nostri pasturatori qualche vegatino e qualche castor credo che sia il massimo certo farlo lavorare il più possibile adesso facciamo vedere come bagnare le pasture concordi cavedano la parte da un chilo molto più chiara la peschiera molto più scura vedete molte crisalide dentro tante parti medio grosse appunto perché deve lavorare tantissimo facciamo riposare un quarto d'ora la nostra pastura vedete tenacità perfetta basterà dare un piccolo colpo con le nostre mani qualora troviamo qualche piccolo grumo e la pastura è pronta all'uso qualche bagatino qualche caster